Ciao a tutti amanti dell'urbex e benvenuti nella nuova stagione di Urbex of Us, la seconda. Adesso vado a spiegare brevemente di cosa parla questa rubrica per magari coloro che non avessero visto la prima stagione. Come dice il nome stesso di questa rubrica, Urbex of Us prende spunto da The Last of Us. Che cos'è The Last of Us? The Last of Us è un videogioco per varie console dove il mondo è abbandonato a causa di un virus. Quindi praticamente la razza umana è sull'orlo dello sterminio e di conseguenza il mondo è completamente abbandonato. Cosa c'entra The Last of Us con l'urbex? Beh, tramite i vari personaggi che ci sono in The Last of Us, questa volta ci dedicheremo alla parte 2 di The Last of Us, andremo ad esplorare questi incredibili spazi, incredibili strutture che si trovano all'interno del videogioco. Teatri, scuole, ville, castelli, città fantasma, ci sono anche delle chicche che se esistessero veramente venderei tutte e due i reni pur di esplorarle. Insomma, restate sintonizzati perché questa rubrica è veramente veramente una sorpresa. Sigla e partiamo! Ciao a tutti amanti dell'urbex, benvenuti in questa nuova puntata, la terza di Urbex of Us. Benvenuti in questa nuova puntata di Urbex of Us, siamo alla seconda stagione di Urbex of Us e siamo già all'interno, come ben potete vedere, di un posto abbandonato. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se i nostri contenuti vi piacciono, ma adesso iniziamo ad esplorare questo posto. Dove ci troviamo? Allora, amanti dell'urbex, ci troviamo in un luogo abbandonato, lo avrete visto sicuramente dal titolo, ci troviamo in un luogo abbandonato incredibile. Poi aspetto di sapere la vostra, qui sotto nei commenti fatemi sapere se esplorereste anche voi un luogo abbandonato così. Comunque, all'interno di questo ufficio, quindi ci troviamo in un ufficio e questo lo abbiamo chiarito, possiamo vedere che c'è rimasto ancora di tutto. Vedete che poi ci sono dei tasti da premere perché ovviamente poi Ellie andrà a prendere delle determinate cose, magari delle cose che giustamente serviranno per il gioco. Poi nelle altre puntate andremo a vedere che ci sono anche delle lettere che sono state lasciate per i nostri protagonisti. Insomma, come ho sempre detto, un The Last of Us che ci fa rivivere appieno la vera esplorazione urbana. E i ritrovamenti che si fanno all'interno dei posti in questo gioco non sono da meno. Vedete che sostanzialmente c'è ancora tutto nonostante si stia parlando di un posto abbandonato veramente molto molto particolare, amanti dell'urbex. Ecco, poi ogni tanto capitano anche queste baccheche dove ci sono ancora i post-it lasciati prima che scoppiasse l'epidemia. Ho appena scoppiata l'epidemia. Guardate che bellissimo panorama, ma adesso cambiamo completamente ambiente perché amanti dell'urbex, ve l'ho detto, l'avrete visto sicuramente già dal titolo. Andiamo ad esplorare, o per meglio dire, ci troviamo all'interno di un centro commerciale. Lo potete vedere anche voi stessi, potete vedere anche la neve che c'è a terra perché purtroppo il tetto è sfondato. Comunque si sta parlando di un abbandono abbastanza datato, cioè non è un abbandono di uno o due anni. Adesso non mi ricordo quando sia ambientata questa scena, ma comunque si sta parlando di un'epidemia che ha già preso il largo sul nostro pianeta. Quindi la razza umana e il genere umano, per meglio dire, è sostanzialmente, come dico sempre, sull'orlo dell'estinzione. Poi naturalmente un'altra cosa che dovete immaginare è che quando un essere umano diventa infetto, quando il virus ormai è già in circolo, non ragiona più. Quindi prende, spacca tutto. E quindi è anche difficile trovare ambienti, è strano trovare ambienti così conservati. Ecco, questo magari un po' meno perché è un luogo pubblico. E come dico sempre, anche nelle nostre esplorazioni reali, i luoghi pubblici tendono a resistere meno. Qui, amanti dell'Urbex, lo vedete, bread and sweets, vuol dire che ci troviamo nel reparto di pane e dolci. Infatti vedete, scusatemi, che davanti a Delli ci sono dei veri e propri scaffali. E vedete, lì in alto a sinistra c'è anche un bel pezzo di torta con una bella baguette, se non ho visto male. È un centro commerciale abbandonato, vi dirò, amanti dell'Urbex, che non è neanche il più conservato. Perché in The Last of Us c'è un altro centro commerciale che sostanzialmente non sembra neanche abbandonato. È un po' come nelle nostre esplorazioni, quando giustamente dite, ma Marco non c'è neanche polvere. Sì, ok, magari voi non notate la polvere, ma se andiamo in un posto è perché è abbandonato. Che poi si è abbandonato da un anno o che si è abbandonato da 40 o 50 anni, l'importante è che si è abbandonato. E qua, amanti dell'Urbex, ci troviamo, lo avete visto sicuramente, ci troviamo nelle casse. Come ho detto nell'ultima puntata, la cosa strana è trovare aggeggi dei nostri giorni. Ovviamente il videogioco è ambientato ai nostri giorni, quindi troviamo, ad esempio, tutta la tecnologia che ritroviamo ai giorni nostri. Quindi computer, tv con schermo piatto, cellulari dell'ultima generazione. Come vi dicevo prima, essendo ambientato ai giorni nostri, troviamo tutti gli oggetti a noi più cari dei nostri giorni. Qui vedete che in un supermercato si vendevano, non so, credo di sì, che si vendano ancora anche dei film, dei cd musicali. Ho detto, oddio, adesso i cd che si compravano una volta quando usciva un album o un singolo, non so quanto si usino, ho visto Spotify e tutte quelle cavolate lì. Però lì si vendevano ancora i film o i dischi. Poi con i film non ne parliamo ancora peggio, con Netflix, Amazon Prime, insomma, lasciamo stare. Come vedete, amanti dell'urbex, un centro commerciale che sì, ok, non è conservato alla perfezione, ma è comunque affascinante. Poi, secondo me, il fatto che ci sia la neve rende ancora il più tutto, come dico sempre io, molto suggestivo. Adesso andiamo un po' di corsa, perché comunque la parte principale l'abbiamo vista. Qua ci troviamo nel magazzino, nella dispensa del centro commerciale. Ecco, lì qualcuno ha tirato anche giù il muro, può essere che siano stati gli infetti, perché poi, ve l'ho detto prima, quando vengono infettati, quando il fungo, il virus, ormai ha preso il sopravvento, praticamente non ragionano più e quindi iniziano a tirare giù tutte le cose. Ormai il loro istinto di sopravvivenza è quello di mordere altre persone, naturalmente. Qui ritorniamo, perché questa prospettiva non ve l'avevo ancora fatta vedere e secondo me, amanti dell'urbex, è veramente una figata. Ma adesso, eccolo qua, cambiamo ambiente, ci troviamo sempre all'interno del centro commerciale, però stavolta andiamo ad esplorare, diciamo così, un ambiente un po' più adibito ad uso abitativo. Infatti vedete che c'è un letto, ecco quello che vi dicevo prima, nel videogioco troviamo anche delle lettere, ecco, ti supplico, torna a casa, Eugene, se le luci vogliono salvare il mondo, che ci provino. Questa roba l'ho voluta lasciare proprio perché rende realistica l'esplorazione, un po' come quando io o i miei colleghi andiamo all'interno dei posti abbandonati, che troviamo lettere, documenti, cartoline, fotografie, insomma, chi più ne ha e più ne metta. Se vedete i miei video, non devo star lì a spiegarvi cosa troviamo durante l'esplorazione, appunto, dei posti abbandonati. Quindi ho voluto lasciare questa cosa di trovare le lettere perché, secondo me, rende il più realistico la situazione. Già, come vi dicevo prima, The Last of Us è veramente fin troppo realistico. In aggiunta, ho voluto lasciare questa chicca che, secondo me, la rende quasi un'esplorazione, diciamo così, reale a tutti gli effetti. Io poi, secondo me, ci metto la mano sul fuoco, ci sono degli ambienti che troviamo in The Last of Us che effettivamente sono abbandonati anche nella realtà. E, proprio per questo, vi dico di seguire tutte le puntate, Amanti dell'Urbex, perché ci saranno un paio di chicche che io, solo ad esplorare questi ambienti nel videogioco, mi stavo mettendo a piangere dall'emozione. Perché ho pensato, cavolo, Marco, pensa se questi ambienti esistessero veramente. Quindi, Amanti dell'Urbex, vi do l'appuntamento, come sapete, ormai ogni mercoledì alle 20.30, perché ogni mercoledì alle ore 20.30 esce una puntata targata Urbex MJ di Urbex of Us. Allora, qui ci troviamo, sì, nella sala, forse nel magazzino dei ricambi, no? Vedete che ci sono tutte le scatolette, un po' come quelle che ho io al lavoro in plastica, dove dentro, appunto, ci sono i pezzi di ricambio. Qui cambia completamente l'antifona, Amanti dell'Urbex, perché qua ci troviamo sostanzialmente quasi in una biblioteca. Vedete che ci sono ancora gli scaffali quasi pieni di libri, insomma, per essere abbandonata una biblioteca, secondo me, ci sono anche parecchi libri. Vedete che poi ci sono anche i generi, comedi, vedete, ve lo ripeto, sono ambienti veramente molto ben fatti. Quindi voglio fare i complimenti a Naughty Dog, che è il produttore del videogioco, perché ha sviluppato due videogiochi. Sembra che debba uscire anche il 3, quando sto parlando in questo momento, ad agosto del 2024. Sembra che debba uscire anche The Last of Us parte 3, ma purtroppo pare che esca solo per PlayStation 5. Quindi voglio fare i complimenti perché hanno sviluppato, fino a questo momento, due videogiochi. Videogiochi, mi riferisco a quelli che sono usciti e a cui ho giocato, hanno sviluppato due videogiochi veramente molto molto fighi, amanti dell'Urbex. Lasciatemelo dire, quando le cose vanno dette, vanno dette senza giri di parole. E qui, vedete, è veramente una figata. I libri che sono adagiati anche su altri scaffali posizionati in centro, non sono solo sugli scaffali classici che si possono trovare in biblioteca. Poi, naturalmente, come quando andiamo nei posti abbandonati noi, qualcosa la troviamo a terra, purtroppo. Però, vedete, la maggior parte dei libri, amanti dell'Urbex, è rimasta lì al proprio posto. E qua ci troviamo nella reception. I due cavalli, li vedete? Sì, sono due cavalli, perché in questo momento del videogioco i protagonisti, tra virgolette, si muovevano, giustamente, magari da un posto all'altro a cavallo. Quindi non state avendo delle allucinazioni, sono effettivamente due cavalli quelli che avete visto. Stiamo arrivando alla fine, qui troviamo addirittura due, anzi, quattro computer. Grazie per averci seguito anche in questa puntata, amanti dell'Urbex, mercoledì prossimo, ore 20.30, qui, su UrbexMJ, un'altra puntata. Ciao! Amanti dell'Urbex, siamo giunti così alla fine anche di questa puntata di Urbex of Us. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questa esplorazione realizzata all'interno di The Last of Us parte 2 e io vi ricordo che ogni mercoledì alle 20.30 puntuali qui su UrbexMJ, perché appunto ogni mercoledì alle 8.30 di sera esce una nuova puntata di Urbex of Us stagione 2. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto di questo video e ci vediamo mercoledì prossimo, ore 20.30. Ciao!